Qualità video? Massima Massima Guarda che qualità pazzesca Da 3080 finalmente ci posso girare Golf with your friends Che cosa ci ha scelto per noi Francesco? Going banana Cioè andando per bananando praticamente Andando a banane Mamma mia guarda quante banane che ci sono Allora te dico Se sei un coglione come me la fai in due Però tu sei più fortunato E quindi sarai in una Vediamo Gianmarco Tocco Hai fatto esattamente il mio stesso tiro Ma in una Il Toccus Elegante, sexy, bello Questa è la mappa di Amurante Sembra veramente una battuta stupida Beccati subito Slash VIP Mamma mia che me stavo per inventare Eccola lì Che culo Disse già smart Prima di finire il buco Voglio bestemmiare sei troia Mamma mia Gianmarco Tocco Però la tira fuori dal cappello Gianmarco Tocco qui La tira fuori dal cappello No Gianmarco Tocco Porco Dio però mi stanno tutto storto Se la facevo questa veniva giù lo stadio Se va subito a vedere Spectrum Bola sta trollà se stappa Se stappa veramente Giga stappa Oddio Siamo vivi Siamo vivi Siamo vivi C'è un distacco gigante dagli altri Madonna Marzo Questa sembra un tumore a pedale Porco Dio Ti giuro sulla madonna Uccido Madonna Marzo Fai schifo al cazzo Veramente E' perché le banane Non è roba mia Mamma mia Ma che è sta pregnaccia Ma le manno ma che cazzo ha fatto Mazzaghi e tirito Devi andare quando sta giù Perché se no non ce la fa Eh vabbè Porca madonna Ok va bene Va bene dai ok No no c'è l'ho trovato questa Dai va bene Ho trovato questa Mi tiro un destro in faccia Clamoroso Mi distruggo la faccia Mi distruggo la faccia Ti giuro No 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 lo fai Sì sì no no Mi distruggo la faccia Madonna ma che è sta roba Mi salta sulle banane Sta tipo là la cosa Guardate è una stecca così Prega ma dove cazzo Devo andare N вполне Nani Mamma mia fratella Mia madre Octopussy è il god finale No non è questione del god finale Octopussy c'ha un bucio di culo grosso così Forte Oh no Eh figurate 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 c'è la mamma che è una troia Mangia cazzi Oddio grande tecnica invece Mamma mia 3 al marza Mamma mia 3 al marza Ma che essere supremo Capato da là non puoi sbagliare Con calma Respira E questo gioco ti giuro mi fa venire le siccome Ti giuro mi fa venire una sincope porco dio Questo gioco di merda E beh si recupera Ma che si recupera Non si recupera un cazzo Non si recupera In 3 e in 4 Olè 2 sotto Octopussy Si è bella Quella è Uomo perfezione Guarda guarda che maniaci che hanno pensato al fatto che Dove avevano imbalzato un muro Oh senti io tiro una saracca Ma sti cazzi Porco dio Eh lo sape C'è un bucchino Andiamo a vedere una classifica Che vede Octopussy fatta in 5 spectrum Ma addirittura in 4 Ma posate il level up Oh però ragazzo Non reddi il biliardo Eh io dio porco Sono veramente forte Troppo Eh zecchia Ma te ma non mi puoi copiare a me bro C'è una dinastia Vabbè buono 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 Oddio Octopussy l'ha trollata La fa in 3 O forse non la fa nemmeno in 3 No eh Deve fa grosso rimbalzo sul muro L'ho fatto io bro Troppo più forte Ottimo Ottimo Mamma mia che bello Mamma mia che carino Che carino Inquadrato proprio Inquadrato Oddio Octopussy la trolla Due in più Due in più all'ultima buca È randomica È randomica Dov'hai Marzò? Con la gialla va in goal Ma che dici? Non in una ma in due sì Il Tokus! Mamma mia Marzò Che vomito te è Eh però l'ho fatto cagare Se gode Trova un'altra Marzò Magari un'altra sembra caliente Magari con meno cose No è prison break No è prison break Serie di merda Oh madonna Oh però fare caliente Mamma mia C'ha grandi cosi per Per siummeggiare Mille Q Ah cazzo No 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 Ok questa sembra una Eh non puoi saltare nell'acqua E non è acqua vera Ma che dice Ma che dice? Mh mh Allora se la parte che è nuova Te la possa appoggiare Scusa ma quello come ho fatto a passare? Non diciamo cazzo Oh David lascia perdere Oh mazza che diretto No queste sono quelle di Francesco Sono quelle di Francesco queste Lo dico subito Ma c'è tipo una cosa piccola Me so fermato ma non in buca Ma porco Dio Eh poi io già ma me so fermato là ma non dentro Eh cinque Se siamo riavvicinati Se siamo riavvicinati Stiamo tutti là Stiamo Dio po Era fattibilissimo in uno eh Era mega 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 fattibile in uno No Era mega fattibile almeno da lì Mannaggia il Gregorio VII Ottimo Era mega fattibile in uno Ma perché non guardano prima? Beh Bello No Alemà Manca fa così Bella Bellissima Alemanno l'ha messa in tre Era primo Quindi adesso siamo a parità con il primo Con Alemanno siamo in pari Che merda Qui ci stava io mi ricordo E qui c'era Madonna Signori Signori Elegante Alemanno Giftami subito 5 sub Un me dici come hai fatto a fare Forse dalla sorgente Eh lo so Forse con la sorgente Riesci a prendere l'articolo Eh io questi ne sbaglio mai eh Io questi ne sbaglio mai Questi sono veramente So Will Smith Bravissimo le cappellate Bravo Alemà E mo la sbagli pure Mo la sbagli pure Guarda la mia danza Guarda la mia danza Danza a livello 2 Che gufo È inutile che scrivi che gufo in chat Porco dio Perché sono stato così sciocco Ok Ok mancano 3 buche C'ho 7 punti di vantaggio Di questa un ricordo Gianmarco Tocco Ma penso sia Torno sempre qua Detective Conan Signori Marrello grazie Musica di Detective Conan Con Pancroft Sulla mia faccia Madonna ragazzi L'ho chillata No Bro Signori e signori Ti mostro Ti mostro Come chiudere in bellezza Vai Gianmarco Tocco Che però non entra Mannaggia alla madonna Ma la fa in due Spettacolare Incredibile Pazzesca Parliamo Guarda